Don Antonio Adducchio, in occasione del nome di Maria Assunta in Cielo, Durogna, la contrada di Santa Maria, si appresta a festeggiare con la diciassettesima edizione della Sagra dello Spezzato. Sì, la Sagra dello Spezzato e la diciassettesima edizione, come hai detto tu, ci ricorda soprattutto un antico antipasto tradizionale della vita contadina che si serviva proprio prima del grande pranzo, delle grandi festività religiose, patronali, ma soprattutto anche dei matrimoni e quindi era un antipasto molto prelibato che ancora oggi si fa in qualche casa ma non dappertutto e quindi noi l'abbiamo riproposta come Sagra alla vigilia della festa della Madonna. Come mai Durogna festeggia il nome di Maria Assunta in Cielo il 17 e il 18 agosto? Questo santuario è stato consacrato da Monsignor Sanducci proprio il 15 agosto e fu l'unica volta che facciamo la festa il 15 agosto ma siccome in parrocchia fanno anche loro la festa il 15 agosto e allora noi l'abbiamo posticipata il 17 e il 18 agosto in occasione del rientro di tutti questi nostri amici che sostengono molto anche il santuario. Ernesto Manzo del Comitato Festa Santa Maria di Duronia Sagra dello Spezzato. Tra gusto, storia e tradizione? È una tradizione come ha detto il parroco molto antica e noi la riproponiamo con... una volta si faceva con dei ritagli di pollo, di cose un po' più povere adesso noi mettiamo carne di manzo e di maiale quindi in proporzione un po' più arricchita. Un piatto di carne che dà appuntamento a che ora, quando e dove? Allora, alle 21 e il 17 di agosto nella contrata Santa Maria di Duronia e vi aspettiamo numerosi a questa sagra, la 17esima sagra.